Ok, ma facciamo town appunto, modalità invertida. Dai, chetana! Alzo un po' la web perché copri la gemma nascosta. Beh, che ti frega. Ok che la copro, però. Preferite che copro le vite e le morti? Vi interessano le vite e le morti? Ma sì, effettivamente copriamo le vite e le morti. Che mi dite? Vabbè, sì, dai, ma cosa ne fu? Ok, questo posto spacca! Allora, fammi vedere dove stanno le case perché un borre orde. Allora, non la vedevo, raga, vi giuro su Dio, non la vedevo. E qua dobbiamo guardarci bene intorno, raga. Perché qua, con questo filtro, non mi ricordo minimamente... Ma qualsiasi qualsiasi sapete che vi dico? Ricominciamo il livello, perché non mi ricordo... No, sì, non mi ricordo minimamente dove cazzo, rola, stanno le casse. E con questo filtro... Comunque, dobbiamo arrivare a 60 con danno. Questo non lo ricordo, 60 casse. Quindi, amici miei, 60 casse. Allora. Comunque, non si vede un cazzo questo filtro. Diciamo che è un filtro arancione. Quando le casse sono arancioni... Allora, mi fate riguardare qua? Non mi sembra ci siano casse. Non mi spiego. Non mi spiego, non mi spiego. A cacera, ce la fai io. Sì. Non mi ricordo se... Non mi ricordo se per il momento le ho prese tutte, credo... Non ricordo minimamente, ragazzi. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, l'hai fatto. No, facciamo passare la macchina. Andiamo a prendere... Sai che c'è... Non mi riesco a fare così. Me l'aspetta... Ne ero convinto, ne ero convi... Ne ero convinto che sarebbe successo. Lo stai già in Moscos... Eh... No... Non sono le nostre monstrosse 3 3 4 5 5 6 7 8 8 un apocalisse dai 58 dai giusto dai raghi abbiamo finito guardate il video se lo fa vedere ok e ora è tosto vedete che si vabbè intanto prendiamo tutte le casse dai poi evitare di fare le tre morti quello poi sarà non so 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 ok ok non so 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 Wow, tosta che l'amo so sega! Anima! La seleccione schiavi! Bendiko da tu stati! Antima della bocalizion! Viiiia! dai seguiamo i frutti ed evitiamo di fare cappellate dai quante morti posso fare ancora ancora due morti posso fare iniziamo Ehi, ehi, ci state mettendo tanto? Il mostro bersaglio è Gabbia! Gabbia, idioti! Fatto! Eccole qua, signori! Dai, abbiamo preso tutte e sei le gemme! Nice! Continuiamo! Dai, abbiamo completato praticamente sia le mie che la seconda isola! Assolutamente sì! Adesso, 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 adesso! Adesso! Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare... Sì, sì, completato!